E' stato un privilegio oggi presentare qui a Palazzo Farofini questo video che racconta 20 anni di storia della festa di Transumanza, una tradizione tra le più antiche del Veneto. Come Regione Veneto annualmente sosteniamo e promuoviamo queste iniziative perché di fatto sono la spina dorsale della nostra storia, sono la testimonianza delle radici del nostro popolo e quindi la nostra azione non solo di essere al fianco dei nostri comuni, delle nostre famiglie, delle nostre comunità in questo momento bellissimo e delle aziende agricole che oggi ancora continuano a investire molto, lo facciamo anche e speriamo sempre di più dal punto di vista anche del sostegno economico perché hanno bisogno del sostegno della Regione in tutto e questo è il nostro impegno annuale e speriamo di farlo sempre. In occasione del ventesimo anno di questa importante festa per il Comune di Sempetringù abbiamo deciso di raccogliere la testimonianza della vita in Malga, quindi con questo docufilm 100 giorni di vita in Malga che è poi il periodo in cui trascorrono all'alpeggio le nostre aziende agricole. Il docufilm si compone di tre parti, la prima parte che testimonia cosa vivono durante questi 100 giorni, la seconda parte il viaggio, queste 24 ore di viaggio di partenza dalla Malga transitando per i comuni dell'Altopiano arrivando a Marostica, l'ultima parte è quella invece dell'arrivo a San Pietringù con la grande festa che vede il paese accogliere a braccia aperte il ritorno delle nostre aziende agricole, una meraviglia. Abbiamo l'azienda agricola dei fratelli Nicolin, un'azienda storica, partiva con il nonno, con il padre, con i figli e adesso con i figli dei figli, insomma con Luca, Nicolin, l'ultima generazione, ma abbiamo ancora i capisaldi Angelo e Silvano, poi abbiamo l'imprenditoria agricola femminile dell'azienda agricola della signora Sasso Arianna e infine abbiamo l'azienda agricola della famiglia Sandonà di Mariano Sandonà. Io vi do appuntamento il 6 ottobre con la 21esima edizione della festa della transumanza, stiamo già scaldando i motori, abbiamo già contattato le aziende agricole, il lavoro sarà tanto per non tradire le aspettative e tutta la regione Veneto e tutta l'Italia in realtà è invitata per questo meraviglioso evento. L'esperienza diciamo è grande, è molto impegnativa, la viviamo da sempre, ogni anno è un'esperienza un po' diversa, in cui da solo non si riesce a fare niente, come prima ha detto il nostro sindaco, uno solo non fa nulla. Ringrazio infinitamente tutti quelli che ci seguono, che ci danno una mano, il volontariato. Vogliamo anche ringraziare il nostro piccolo comune di San Pietringù che ci aiuta alla manifestazione. L'emozione più grande è durante gli ultimi due o tre giorni della Malga, dove vedi radunare il nostro bestiame, tutti i giovani che ci danno una mano, a venire su disponibili, a disponibilità di tutti, per portare, per fare questa transumanza, per portare i nostri animali a casa. È una tradizione che da secoli, diciamo, da secoli che la facciamo, del nostro giorno di festa, dei cento giorni di Malga che facciamo.